So, Mr. Herrmann, cosa significa essere qui con questo fantastico car, nella stessa strada di Mille Miglia? Mi ricordo che è la nostra raccoglia, da Stirling and myself, e io e Manuel Fangcio. È stato 60 anni fa, e mi ricordo molto, molto bene, e spero che ci vedremo in prossimo anno. Sì. Cosa c'è questo fantastico car, oggi? È ancora forte, è ancora molto veloce? Il car è molto buono, perché si riuscita anche dopo 60 anni. Molto, molto buono. Quando pensate del motosport oggi, e del motosport in quel momento, cosa senti? È un'altra cosa, è un'altra cosa molto grande differenza dal nostro tempo al ora. È possibile dire che è meglio o non? Non lo so, ma nel nostro tempo il rischio era più e ora è meglio. è meglio. Nel momento in Italia c'erano due fantastiche caratteristiche, Targa Florio e Mille Miglia. Qual è il tuo favorito? due. Il Targa Florio è una riuscita come Mille Miglia. Qual è il tuo favorito? Due. Due. Perché il Targa Florio ero vinto. Ovviamente. Grazie. 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 Grazie.